Un saluto agli amministrati della Casa Chiave di Milano, oggi chiave con telecomando per Toyota Yaris Hybrid, chiave di cliente con portachiavi, e voilà, chiave chiusa, macchina chiusa, compriamo, perfetto, appoggiamo la chiave sul sedile, accendiamo alla grande. Perfetto, chiavi Toyota Hybrid 2017, fantastico, Milano, casa della chiave number one. Una Grazie per la visione 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 Grazie per la visione